L'ordinanza regionale che istituisce la didattica a distanza fino al prossimo 5 marzo in tutti gli istituti superiori delle Marche e per le classi seconde e terze delle scuole medie nella provincia di Ancona e in quella di Macerata, a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta lo scorso sabato, è ora oggetto di discussione e contestazione. Un gruppo di genitori facente parte del comitato Priorità alla Scuola Marche ha deciso infatti di impugnare la sentenza davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Il ricorso è stato annunciato dallo stesso governatore Acquaroli attraverso il suo profilo Facebook. Il presidente della regione ha affermato che nella stessa giornata in cui il provvedimento è stato impugnato, diverse sono state le richieste giunte da sindaci e assessori per valutare ulteriori provvedimenti restrittivi dedicati in particolar modo al comparto scuola. Riferendosi alla decisione di contestare l'ordinanza Altar, Acquaroli ha quindi parlato di una situazione paradossale, mentre il comitato ha comunicato la decisione di manifestare con un presidio statico sotto la sedia della regione a Palazzo Leopardi ad Ancona per dire no alle chiusure generalizzate e per promuovere invece attività di screening e di vaccini dedicati al mondo scolastico. Altro importante annuncio è arrivato nella serata di ieri dalla sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, la quale, in seguito all'avanzata dei contagi registrati negli ultimi giorni, ha deciso che a partire da oggi e fino a domenica 14 marzo, nel comune di Ancona saranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine grado. Un provvedimento urgente e necessario ha spiegato la prima cittadina, visti i dati ben oltre il limite che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha indicato nelle nuove linee guida e nei diversi criteri per la chiusura delle scuole.